Una recente ricerca dell'Università dello... Oh, io... Dette quando ti voglio... Ha dimostrato che la cultura, per arrivare alle nuove generazioni, non deve essere solo breve, ma anche ricca di input. Ecco perché nasce Culturicca, la cultura che amicca! La nuova strategia ministeriale per avvicinare finalmente la cultura a noi giovani. A voi giovani! Oggi parliamo dell'Eneide, e ne parliamo in soli 20 secondi, perché in fondo, più di questo, non ti servirà! E poi se sforo me licenziano. Nipote dell'Iliade e cugina dell'Odissea, è lo stratagemma poetico, in esametro d'attilico, che Virgilio utilizza per regittimare la gens Giulio Claudia. Attraverso la storia di Enea, un eroe che riesce a scappare da Troia, con il padre anchise sulle spalle e il fio a scagno per mano. Vedi, statua! Ma fa incazzare molto di done! Ergo, vi concepite, fogliasse, evicta dolore, decrevitque morite, impusse, comissamo dunque! Perchè, il titone dava fuoco a tutto. Però datemi una doccia, non lo so, una citronella! Perchè, non lo so, una citronella! Grazie a tutti